buonasera dalla redazione di florence multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a firenze sud provenendo da entrambe le direzioni rallentamenti per una perdita di carico tra badia e il pivio con la variante di vali con la quercia in direzione bologna spostandoci sulla ppl code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla strassigna provenendo da firenze sulla statale 1 aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra fonte blanda e montiano in direzione grosseto a firenze oggi è stato proclamato uno sciopero di ataf dalle 18 alle 22 infine per gli aerei il volo da lisbona atteso alle 18 e 20 a firenze è stato cancellato muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio a